Mi trovo in via Cugini, a pochi passi da Piazza Fadini, a pochi passi dall'arsenale di Taranto, quindi una zona centralissima, un punto importante. Vedete, la gente per le macchine per arrivare al centro devono necessariamente attraversare questo gobito di strada. È una zona centrale, guardate come si ritrova un palazzo privato abbandonato, è stato transennato, peraltro perché c'è un pericolo di crollo. L'amministrazione comunale di Taranto e l'attuale gestione commissariale e ancora prima l'amministrazione Melucci-Musillo non sono mai intervenuti per mettere davvero in sicurezza quest'area, nel senso di rimettere in sesto questa palizzata contenitiva proprio atta a non far avvicinare nessuno per il pericolo di crolli, né si sono mai degnati di ripulire questo porcile che sta all'interno. Questa è la rinascita che Rinaldo Melucci dice di aver seminato per Taranto, perché tua amministrazione comunale, quando vedi uno schifo del genere tu intervieni, poi ti rivali sui legittimi proprietari con le ordinanze in danno e quant'altro. Ma non è possibile che un'area a pericolo di crollo, guardate, noi siamo dall'esterno a pericolo di crollo, transennata per evitare che la gente si avvicini e possano esserci dei crolli, tu non ti sei degnato in questi mesi, caro Melucci, anche prima di ottobre, tu non l'hai fatto, prima di novembre, prima che decadessi, non l'hai fatto e da mesi giace così abbandonata con tutto il porcile che sta dentro. Nulla fa il commissario, ormai il commissario sembra quasi un amministratore di condominio che fa l'ordinarissima manutenzione, e manco quella. L'amministrazione Melucci, Musillo, nulla. Cito Musillo perché il signor Musillo ha amministrato quattro anni e mezzo con Melucci. Quando c'era lui, quando c'era Melucci e insieme a Melucci c'era Musillo, c'era anche questo degrado, quest'area aperta come ora, quindi fonte di pericolo. Ma signori, vogliamo continuare a dare la città in mano a gente politicamente incapace come Melucci e come Musillo? Ma questo è il biglietto da visita che diamo ai turisti? Questi sono i servizi che offriamo ai cittadini che pagano le tasse? Questi, secondo Melucci e Musillo, sarebbero i fessi, i cittadini cui si chiede il voto, e a questi stessi cittadini si offre lo schifo? Bene, il 12 giugno è una data epocale, oserei dire. O si vive o si muore. Se volete continuare a vivere nel degrado e a morire di Ilva, la scelta è presto fatta. Votate Melucci o Musillo. Se volete invece una Taranto diversa, una Taranto con un sindaco che ci mette la faccia, le energie, la propria competenza, come ho fatto in 21 anni di attività giornalistica, scegliete Luigi Abbate, scegliete Taranto senza Ilva. Ora il vostro futuro è nelle vostre mani, in quella benedetta matita elettorale. Grazie a tutti.